parte parte funziona tutto anche oggi guarda guarda che bel quartetto là dietro vale uno meglio dell'altro e oggi si parla di carnevale ragazzi carnevale dopo il mitico compleanno di ieri del buon felice che ha compiuto quanti anni fatto ieri felice 22 anni dopo i 22 anni di felice oggi parliamo di carnevale carnevale di mugia carnevale di servola e il carnevale in giro per il mondo dai io direi che possiamo partire con la diretta nostra in radio sei pronto felice radiofragola 104.5 104.8 23esima puntata cosa succede in città e basta ci lasci sempre sul sospeso cosa succede in città cosa succede in città io direi che bu succede in città no 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 aspetta aspetta prima salutiamo elisa dai ciao buonasera a tutti ciao ciao chiediamo elisa cosa succede in città cosa succede oggi in città e oggi come abbiamo anticipato nella video diretta parleremo di carnevale si parleremo di carnevale alla grande parleremo del carnevale prima faremo un giro di domande a tutti su qual è il travestimento più divertente della loro vita questo lo faremo sicuramente soprattutto ad enrico che in questo momento ci sta guardando ed è divertito della puntata di oggi veramente felice di poter fare questa puntata dedicata al carnevale io direi prima facciamo partire la sigla e poi facciamo il giro di domande certo ok sono tornati alla vecchia maniera senza music ah sì hai la inoscenza musica no quando non c'era la facebook perché non ti trasmette allora via youtube invece che c'è fai la diretta youtube e dopo la la condividi su facebook oppure fai la diretta su youtube e ci rifarla su facebook e mi dici che questi problemi di cesura ma dopo non la posso mettere su facebook sia la condividi però la fonte diversa e lo so però comunque di bloccano lo stesso non so io provato sto indagando un po' pronto felice radiofragola 104.5 104.8 questa ventitresima puntata cosa succede in città succede che passi il microfono a roberto besenghi detto roby detto anche pino detto anche detto anche finucci e non si è pronto buongiorno a tutti ciao volevo fare salutare una mia amica e che a casa che sta molto male e che insomma non sta bene allora volevo dire cara e cristina ti mando un grande bacione vedrai che presto ci vedremo e ritorno presto a casa ok ciao stella buongiorno bene auguriamo anche noi dai a cristina un augurio di buona guarigione da parte di tutti noi della redazione di voice up e lavoriamo ecco qua in trasmissione dai appena sì così la invitiamo appena sta bene la invitiamo in una puntata roby ci pensi te no? ma tranquillo va bene Cristina ti va bene? aspetta non parlare senza microfono ripasare il microfono ti va bene Cristina? sì mi ha detto di sì per lei va benissimo ecco l'aspettiamo allora perfetto dai allora partiamo subito con una delle nostre rubriche poi faremo un bel giro di domande dai da chi partiamo Felice? partiamo con Martino Garesio che ci parlerà di carnevale a Muggia ciao ragazzi ciao amici di Radio Fragola e oggi volevo parlare della settimana che parte oggi la settimana festiva del carnevale di Muggia e volevo raccontarvi un po' del carnevale e soprattutto dalle origini di questo carnevale partiamo da addirittura pensate un po' voi dal 1420 grazie al nostro tutto comunale che aveva che regolava il famoso Elmato Carnevale si chiamava all'epoca poi nell'andare del tempo nel corso circa nel 600 circa nel 600 veniva chiamato Vallo delle verdure che vedeva uomini e donne danzare con irlande di verdura e frutta in testa era una festa praticamente primaverile e tutti si auguravano che il raccolto e che l'anno sia buono per farla venire no? un'altra antica tradizione conosciuta come tutti aori dove tutte le compagnie del carnevale facevano questua di uova porta per porta raccoglievano moltissime uova e dopo andavano in piazza a fare una mega frittata dove tutta la popolazione tutto il paese partecipava era una grande festa e poi cosa dire ancora di questo carnevale oggi il momento più atteso è la sfilata dei carri oggi comincia proprio oggi il carnevale dei carri al quale lavorano con passione tutti gli artigiani del paese e ogni ogni compagnie si scusate si trovano per le scenografie quindi i carri e costumi devono essere coerenti col tema scelto le compagnie impegnate sono otto buli e pupe bellezze naturali la trottola ongia brivido manriol campo no scusate lampo e bora la bora domenica 23 febbraio sfileranno circa 2000 maschere e vi assisteranno pensano almeno 30 mila persone comunque per una settimana sarà festa il 20 e comincia la sfilata dei bambini il 22 la mega frittata in piazza il 24 febbraio la sfilata delle maschere senza i carri il 25 la veglia funebre delle vedove inconsolabili fino al 26 che ci sarà la chiusura del 67 carnevale auguri a tutti voi le feste di carnevale attino proseguite dai proseguite con il tuo ricordo del fedele del carriera ricordo di allora io nel infanzia io nel infanzio mi ricordo a una certa età per cioè io 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 ero john wayne e per carnevale rivestivo sempre da cowboy con le due pistole la stella da sceriffo e mi ricordo che erano proprio veramente mi divertivo perché all'epoca più di oggi forse i ragazzini e le persone si vestivano festeggiavano ancora più carnevale di oggi oggi è una cosa magari un po sottotono ma quella volta c'era anche le famiglie povere in qualche maniera uno strazio o qualcosa se lo mettevano e andavano in giro per città veramente contenti e anche una mascherina bastava una mascherina nera ti sentivi in maschera e ti sentivi di affrontare tutti senza aver paura di andare in giro era veramente bello e tu ti sentivi john wayne io ero john wayne per forza il mio idolo era lui ok parliamo di quanti anni fa allora se voi vi ricordate quando john wayne faceva il film western era il mio idolo parliamo di una buona cinquantina di anni fa tu hai partecipato alla prima edizione del cartone io praticamente ho partecipato alla prima edizione del 1420 e avevo tutti i testi di frutta in testa va bene adesso passiamo la voce a qualcun altro si si a enrico che sicuramente sta godendo per questo momento e la cosa bella era già anziano all'epoca ricordo un tuo ricordo di muggia se l'hai nella giovinia io mi attacco un po quello che ha detto martino perché per me era uguale cioè il carnevale era veramente una gran festa anche poi per i bambini era qualcosa di era veramente un grande evento forse adesso ci sono anche tanti altri eventi e come diceva martino magari sei un po sottotono se ci sta ancora però era veramente una gran festa da quello che mi ricordo come evento in generale il carnevale era veramente molto sentito anche in piccolo quindi non c'era bisogno di... come diceva lui bastava una mascherina qualcosa c'era tutta questa preparazione a tutti vestivi dal carnevale? si ma io mi sono limitato fino a un certo periodo pare che noi siamo quasi paetanei per cui io mi travestivo da zorro tu? ah io sempre... non voglio dire ma come martino per me cowboy cowboy quello che mi ricordo tanto Robin Hood tutti quei personaggi là quelli me li ricordo bene erano dei grandi riferimenti ai tempi invece dopo dopo non ho mai avuto qualche grande simpatia magari sì per l'evento Venezia anche muggia muggia magari sì vederlo c'è così magari ci potrebbe essere un'idea ogni tanto di queste cose però non ho un grande richiamo dire per questa festività quindi no va bene ma sentiamo la parte giovane del programma invece perché siamo sempre noi vecchioni a parlare Elisa invece il tuo di carnevale se ti hai un ricordo di muggia soprattutto ma allora carnevale per la mia generazione era anche una festa sentita ma devo dire la verità l'abbiamo festeggiata per pochi anni a Muggia i primi anni Muggia era aperta quasi in tutta la città potevamo andare fino in castello sul molo c'era tantissima gente e insomma ci si divertiva ma era una festa un po' di troppa baldoria io la dico così per non entrare troppo nel merito ok e si moriva di freddo quindi eravamo sempre vestiti con questi questi abiti da peluche tipo con sotto la termica a patire freddo tutta la sera a girare per Muggia così ok un po' senza senso il tuo abito preferito? il mio abito preferito non c'entra però con Muggia e un anno abbiamo fatto una festa in maschera e mi sono vestita da Brigitte Bardot hai foto? ho qualche foto e portare quello era veramente ben riuscito secondo me benissimo allora siamo in tema con Muggia nel senso che fra esattamente 12 minuti scatterà il carnevale di Muggia e ad aprire le danze proprio in questo caso il termine esatto è proprio le danze ci saranno i nostri amici Laedos che presenteranno ufficialmente sono già venuti qua in radio un paio di settimane fa a presentare a livello mondiale questo nuovo ballo che dovrebbe diventare il ballo dell'estate triestina e non e la novità assoluta di questo brano è che stranamente ma loro dicono che hanno cambiato completamente il genere non è non c'è una parolaccia nel testo per cui è una cosa strabiliante vi consiglio perché l'ho visto stamattina vi consiglio di andare anche su youtube che c'è un video fantastico che loro hanno girato e veramente si stanno attrezzando per il farci gioire durante tutto il periodo estivo è sicuramente adesso lo ascolterete l'abbiamo già fatto sentire ma la Laedada è veramente una forza allora andiamo via a questa cosa dieci minuti prima di loro che dall'indiretta da lì lo faranno poi per il pubblico del carnevale di Muggia e se volete sentirlo non c'è una parolazione ma il dialetto non puoi inserci un po' di audio o no? no perché sennò blocca facebook no perché sennò blocca facebook no perché sennò blocca facebook hai le cuffie però ma devi essere ma te blocca facebook proprio e facebook blocca sì sì in blocca il video e i video blocca che monade ha la parola eh sì sì lo sei ti dico che ha bloccato uno o due anni fa eh e gli ha messo il Pinfloy, il martell che si muove, no? Devoi, c'è il martell che cammina e due anni fa, tre anni fa, mi ha telefonato stamattina e lo ha bloccato perché l'ha offeso, non so che roba e allora lui ha fatto la controdenuncia, no? Perché te voglio, questa roba è vero e ho detto, vi saperemo dire, sarà un altro signor che comproverà se è vero sta storia e lo ha messo il Pinfloy Tu hai ricordi di Servola? Servola? Ma se parliamo di Muzza? Adesso parliamo di Servola Te lo chiedo lo stesso Tu hai ricordi di Servola? Ripprutti, Scalabri Sono tremendi, vero? Arboreano, non è il brano Pensavo fosse più energico Sì, è come se si ricordano loro Sì, è un po' più soft di come me lo aspettavo anche perché per il carnevale e poi mangiare una roba per ballare Cosa io riprendo o parlo direttamente? Whatsapp Tu riprendi e poi io ti lancio Va bene, alla finestra Yes, sir Ma oggi Andrea 2 ci guardava? Eh, Feli? Eh? Ci guardava oggi Andrea 2? Ma penso di sì Sentite, non ne approfitto io ieri se l'ho guardato Facebook la parola il programma Sì E volevo dire che ci servono per tutti quando parlavo io sentivo la gente con i fogli che batteva toccavo l'acqua sentivo la parola e c'era il rumore dava fastidio solo era il rumore Quindi dobbiamo stare immobili quando parla Feli tutti fermi immobili Ma vedrei con la nuova telecamera che ha due microfoni quindi c'è due microfoni direzionali direi che roba Una segnalazione Scusa Ha fatto bene Anche io ho ascoltato non è che mi raccompro Hai sentito Questa qui E questo è del recuperativo Lo so che chi ne farà Felice Radiofragola 104.5 104.8 WhatsApp 23esima puntata Cosa succede in città? Per succedere è una cosa pazzesca Lo sai Felice? Sì lo so Una cosa incredibile Sì Che anche Andrea Due che in questo momento ci sta seguendo poi scriverà un messaggio Certamente Che proprio descriverà proprio con il suo stato d'animo dopo averti sentito parlare E' obbligato Sì ma userà delle parole pazzesche nei tuoi confronti Sì Perché il buon Felice oggi devia un po' da quello che è la sua tradizionale rubrica sui balli per dedicarsi anche lui al carnevale e prima abbiamo sentito Martino parlare del carnevale di Muggia adesso invece il buon Felice ci parla invece del carnevale di Servola e comincio subito no non comincia a prendere la sigla notti poi notti poi da perché sull'assi le cuffie manca la è so la sospensione quella per il che hai visto forse ti andrebbero meglio nei secoli tra 700 e 800 a Trieste ciascun rione durante il carnevale aveva particolarissime tradizioni famoso era il carnevale di Servola che sbaragliava i concorrenti con la quantità di fantasiose maschere edici varie Servola all'epoca era nota anche per i suoi asili e nell'occasione nel martedì grasso la città assisteva alla discesa del colle del corteo degli asimelli orgoglio dei sarbolani era inoltre il funerale del carnevale festeggiato durante il mercoledì delle ceneri quando il cadavere della festa un fantoccio ricoperto di stracci neri veniva condotto attraverso l'intero quartiere e infine bruciato venivano preparati i classici craffe saltimpanse delle pancole cuoche notte persino a Vienna e ovviamente grandi botti di vino bianco il corteo del funerale era annunciato da un capobanda su un asino a cui seguiva la rettica con il carnevale defunto trasportato da due omaccioni intendi a singhiozzare la morte di una così grande festa il corteo si fermava ogni osteria per commemorare i poveri superstiti rimasti offre di padre al carnevale servola era il carnevale popolare la sfilata aristocratica con sfoggio delle carrozze più belle veniva invece al passeggio inferiore di sant'andrea prevista durante il mercoledì delle ceneri ciascuna casa nobiliare gareggiava con l'altra nella bellezza del veicolo dei mantelli invernali dei gioielli esibiti dalle gentidonne il passeggio disponeva di una piccola stazione che connetteva Trieste a Pola e a Parenzo il ristorante annesso era uno dei locali preferiti per chiunque volesse seguire la sfilata la stazione verrà rimpiazzata dalla riva Ottaviano Augusto e dalla nuova ferrovia transalpina all'inizio del 1900 mentre la sfilata si sposterà presso il passeggio di Barcola hai finito? sì ma il tuo ricordo di Servola qual è invece? ma di Servola io sono andato poche volte a ballare a Servola con confusione io purtroppo io ricordo invece a Muggia ma come hai parlato di Servola adesso mi passi a Muggia esatto perché io fa finta che sia a Servola no? a Servola sono andato in macchina con dei miei amici avevano una cabriolet una spider e si sono andati a Servola sì sono andati a Servola a servola vedevamo grappa perché c'era un freddo nel 1970 c'era freddo freddo e avevamo grappa mi dispiace dirlo ma era così e sono andati a divertirci 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 e avevo come dicevi prima tu una mascherina come maschera e da cosa si travestiva felice nel 1970 da ballerino ovviamente non poteva essere vestito solo che da ballerino ballavamo prima e dopo in macchina e fuori dalla macchina tutto il giorno però vi posso dire che nel 1979 dentro il manicomio mi hanno fatto una festa mi hanno vestito da vecchia e ti volevano bruciare per caso? no bruciare abbiamo ballato ballato tanti non non mi riconoscevano chi ero talmente eri vestito bene talmente eri credibile che non ti riconoscevano ma con baffio o senza? sempre voi batti mi hanno rubato e con il baffio sempre mia moglie si sa si sa che donna baffuta è sempre piaciuto è sempre piaciuto bene felice bellissimi ricordi invece passiamo anche a Roby dai Roby invece ha più dei racconti legati a Servola e agli anni famosi in cui io spero adesso con la chiusura della ferriera che il rione di Servola possa rinascere perché veramente è uno dei posti più belli della nostra città con un po' di aria buona e un po' di meno puzza dai sicuramente sicuramente però quello che diceva prima un amico è molto cambiato a confronto degli anni ai niente mi ricordo non mi diceva lui prendevi uno straccio mi vestivo sempre un po' di hippie che erano i soliti vestiti che trovavi da vecchia o da vecchia qualunque stupidata eri in maschera capisci oggi invece molto cambiato o c'è o c'è un bel vestito io mi ricordo tanti anni fa avevo già ero già un po' di grande era appena venuto fuori il cantante Adam Yance e una signora amica di mia mamma di casa mi aveva fatto non dico uguale ma quasi uguale il vestito io sono andato dappertutto non solo che a servoli ciò non era uno che mi ha detto che brutto era tutti che mi diceva ma che bel vestito io non lo trovo più perché era bello e poi l'altro è stato l'unico se no avevo ipi baron e le vizie donna quante volte le barba mi sono vestiti mamma mia però a me sono sempre divertito Robi Robi con il taccato il filo ti ci vedo i tatuaggi sulle gambe quelli a ripeto una donna con i tatuaggi e le calze a rede che avevi ma eravo tutta una rede che avevo tutta una rede insomma in poche parole adesso sto anno non so se mi vestirò perché manca qualcosa non so i soldi il vestito anche perché mi piace vestirmi ben se non di vestirmi mi piace vestirmi ben perché oggi mi vedo tanta gente che non si è visti più come una volta semplicemente con due straze due monate tutti perfetti tutti belli a te piacciono questi che si vestono a me piace mi ho visto la quantità di maschere che vendono nei negozi cinesi io sto girando per tutti i negozi cinesi che sono vuoti in questo momento causa del coronavirus ma con queste maschere da 6-7 euro dovremmo essere delle cose bellissime proprio ah vado a vedermi si trova tantissime cose non facciamo pubblicità però sono quei due che scoporano nella nostra nella nostra piatta si si o uno o l'altro mi diranno dopo dimmi che vado a fare un morsiata per salvare perché si vede qualche bel vestito ma il mio cosa non è ma le solite monate ne ho visto anche uno da cowboy se ho voglia di anche da cowboy se si potessi vestire bene Miriam sai un pensiero un pensiero tuo sul carnevale di quando a dire la verità ho frequentato pochissimo spigate che sia servola che sia nucia io non mi ero comprata per Muzia la stupidaggine perché appunto per il carnevale no io di solito a Muzia vado in estate a pescare e ti travesti per andare a Muzia dall'estate a pescare sì dalla pescatore raramente partecipo a spigate o difficile e quanto al vestito quello forse più alla bambina ci sarà stato un momento 5 anni 6 anni parlando per forza di cosa è ficcato un vestito addosso purtroppo sì no per vestire mi vesto solo che non faccio quei giri servola o un già non so per esempio quando è stato due anni fa l'altro anno mi pare di no ho camminato intorno alla sfinata quella finale che partiva da piazza Oberdown che è il carnevale di Trieste e non mi ricordo che cosa l'ho vestita ok il mio travestimento più riuscito forse da parecchi anni fa da spaventapasseri facilissimo una salopette camicia pantaloni strappati un sacchetto di quelli tipo per le scarpe in testa con i buchi fatti al punto giusto un po' di di erba secca che spunta dalle maniche e via fortissimo allora grande Elisa beh no volevo aggiungere perché mi è venuto in mente in questa discussione qua parlando di carnevale però quando eravamo più piccoli un vestito di carnevale che avevo ovviamente i miei mi hanno obbligato a mettere perché devo essere sincera io il carnevale non lo amo tanto però da piccolo ovviamente la vivi con un po' più di come dire serenità un po' più di frivolezza e mi hanno vestito da Pierrot ah bello devo dire che ho delle foto molto carino come vestito e non è tanto usato almeno non l'ho non l'ho poi tanto rivisto anche nel corso degli anni quindi mi hanno avuto in mente proprio adesso quando hai fatto la domanda a Miriam da piccola bene la prossima settimana ti porti tutte le foto di tutti i tuoi carnevali che noi pubblicheremo non esageriamo siamo fumati alla prima e poi volevo aggiungere una cosa c'è Andrea Due che si è sintonizzato e ci saluta oh e fa anche una richiesta cioè vorrebbe che Felice visto che parlava di quando si era travestito da anziana con i baffi vorrebbe che venissi vestito come quella volta nella prossima trasmissione eh rispondi Felice dai sì ma se mi vestono loro sì loro chi? voi ah dobbiamo organizzare non ti preoccupare ci organizziamo subito dai tranquillo Felice allora partiamo con abbiamo parlato del carnevale anche in quello di Servola e tu ci hai scelto un brano che è sicuramente in tutti famosissimo famosissimo vai qual è? eh eh giudi giudi buongiorno che e allora di sopra per la radio comunque era quel di bar bei di oh no 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 un'altra sua è di perché io prima ho parlato e sempre dico pensi che si muove quelle sedi vanno vanno messo c'è le sedi se uno scritto lì provare quando abbiamo finito la traccia no no ah si ma per quello si ma in radio non si sente niente perché in radio ci troviamo i microfoni che non sono direzionali per cui l'importante è i o i o il microfono lo tengo a me no ma prima io sono io che aspetta il teatro e tanto dopo se la similità mi salta un po' un microfono in qua allora si fa il tuo ricorda rigido del bardo bardo è stato presenti direttamente Miriam vedi che ridendo e scherzando comunque c'è un tempo vedi che avrà di solito i tre minuti eh riapro il presente riapro il presente e voi fate il più rumore possibile metterlo in presente che spiritoso possiamo farli facciamo eccoci voi sa ventitresima puntata cosa succede in città succede in città che io oggi vi presento io personalmente che dice Miriam che ci parlerà delle fila strocche carnevale di Gianni Rodari tutto tutto il tocco c'è che emozionare e che finisce dai scherzi di carnevale carnevale ogni scherzo vale mi metterò una maschera da pocinella e dirò che ho inventato la mozzarella mi metterò una maschera da pantalone dirò che ogni mister nudo vale un milione mi metterò una maschera da pagliaccio per far chiedere a tutti che il sole è di ghiaccio mi metterò una maschera da imperatore avrò un impero per un paio d'ore Gianni Rodari all'anagrafe Giovanni Rodari nato a Domenia il 23 ottobre 1920 è stato uno scrittore pedagogista giornalista e poeta italiano specializzato in letteratura per l'infanzia e tradotto in molte lingue unico vincitore italiano del prestigioso premio Hans Christian Andersen nel 1970 nel 1931 la madre lo fece entrare nel seminario cattolico di San Pietro di Seveso in provincia di Milano ma compresa ben presto che non era la strada giusta per il figlio nel 34 lo iscrive alle magistrali Rodari prendeva anche lezioni di violino con alcuni amici forma un trio e comincia a suonare nelle osterie e nei cordili della zona nel 1937 Rodari si diplomò come maestro nel 38 fece il precettore nel 39 si iscrisse alla facoltà di lingua dell'università cattolica del Sacro Cuore di Milano abbandonando però i corsi dopo pochi esami durante la seconda guerra mondiale vinse il concorso per maestro e insegnò come supplente dopo la liberazione del 25 aprile 1945 iniziò la carriera giornalistica in Lombardia dapprima con il giornaletto Cinque Punte poi dirigendo l'ordine nuovo periodico della Federazione Comunista di Varese nel 1950 lasciò Milano per Roma dove fondò e diresse con Dina Rinaldi il giornale per ragazzi pioniere settimanale dell'Api Associazione Pionieri d'Italia con cui collaborò per una decina d'anni fino alla cessazione della pubblicazione dal 1954 collaborò anche a numerose altre pubblicazioni scrisse articoli su quotidiani e periodici curò libri e rubriche per ragazzi tuttavia entrò nell'albo dei giornalisti solo nel 1957 dal primo dicembre 1958 passò a Paese Sera come inviato speciale dal 66 al 69 Rodari non pubblicò libri limitandosi all'intensa attività di collaborazioni per quanto riguarda il lavoro con i bambini e questo è un periodo molto duro per lui soprattutto a causa delle sue condizioni fisiche e della gran mole di lavoro nel 1968 stanco di Paese Sera pensò di accettare l'offerta di Giulio Naudi Editori che con Editori Rimetti pubblicava allora i suoi libri e si trasferì a Torino nel 73 uscì il suo capolavoro pedagogico grammatica della fantasia introduzione all'arte di inventare storie saggio e indirizzato insegnanti genitori e animatori nonché frutto di anni di lavoro passati a relazionarsi con il campo della fantastica nel 1976 insieme alla partigiane giornalista Marine Samusu fondò l'associazione di promozione sociale denominata coordinamento genitori democratici una onus impegnata ad insegnare e praticare i valori di una scuola antifascista laica e democratica fino all'inizio del 1980 continuò le sue collaborazioni giornalistiche e partecipò a molte conferenze e incontri nelle scuole italiane con insegnanti genitori e alunni gruppi teatrali per ragazzi suoi testi pacifisti sono stati musicati da Sergio Indrigo ed altri cantautori italiani il 10 aprile 1980 si fece ricorriare in clinica a Roma per farsi operare alla gamba sinistra data l'occlusione di una vena morì 4 giorni dopo il 14 aprile per colasso cardiaco aveva 59 anni le sue spoglie sono sue spolte nel cimitero del Verano leggo un altro dei suoi pezzi il gioco dei sei se comandasse Arlechino il cielo sai come lo vuole a toppe di 100 colori cucite con un raggio di sole se Gianduia diventasse ministro dello Stato farebbe le case di zucchero con le porte di cioccolato se comandasse Pulcinella la legge sarebbe vista a chi ha brutti pensieri si adatta una nuova testa volevo ancora fare una cosa volevo ringraziare la mia maestra dell'elementare che me l'ha fatto scoprire ancora adesso ricordo a memoria una delle sue che non c'entra niente con il carnevale quindi all'epoca ci aveva anche portato in cinema a vedere un film tratto da uno dei suoi dei suoi romanzi la torta in cielo grazie Marisa grande Emilia che ci ha regalato questo momento toccante bravo bravo Emilia bravo 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 con i suoi testi allegri simpatici e con un fondo di grande realtà insomma ha passato dei periodi degli storici molto importanti che lo hanno portato poi a raccontare quello che era l'Italia di quegli anni insomma allora Miriam ti stai agitando tantissimo sì perché come al solito corro corro tantissimo non sono capace di leggere piano ma no sei andata benissimo sì tu non ti rendi conto ma stai andando sempre meno ok e questa è la cosa bella sì e c'hai scelto personalmente proprio l'hai voluta a tutti i costi proprio voglio quel brano musicale adesso lo presenti pure non è vero esattamente il mio brano preferito di Camerini è Tanz Bambolino però non c'entrava un troppo quel carnevale quindi tocca ascoltare questo che non mi ricordo neanche che tutto rock and roll robot ma perché hai messo questa e non hai messo Carlecchino non ho una un canzone un canzone un canzone un canzone ma che canzone hai messo di Camerini rock and roll robot e lei voleva invece Tanz Bambolino ma il rock and roll robot lui nel video è vestito d'arlecchino ah ecco ma lui era l'arlecchino lui era l'arlecchino della canzone è tutto il tempo che te vuoi proprio eh no farei un po' di domande prima adesso vai no niente stiamo finiti per un quarto d'ora adesso no niente ma anche io Enrico scusami salutiamo Giordano che ci sta salutando ciao Giordano che ci sta scrivendo anche ok ok è un robot basta non è sufficiente eh Camerini è ancora attivo guarda che suona ancora lui ma dove in giro sono andato a dire sempre che quattro mi riesce in un locarino piccolo ma va e cosa fa perché suona canzone poi e anche un che suona che c'è ma perché ha avuto il successo di due o tre canzoni e poi è morto però lui è andato sempre avanti sì ma non ha avuto successi però lui e dopo no lui va avanti con le sue canzoni sì grazie bellissima boh mi sono scagliato va bene benissima bravo ma sì a me mi piacerebbe leggere poesie e perché non lo fai Fede ma non te mi dici ah perché non scegli un po' di poesia per la possiamo con la sua umbrica poesia poesia però devi scegliere tu la fai per la prossima sì sì io mi sono amante di G9 ma lì non scrivi poesia lui è intelligente non è come queste per i video semplici eccetera insomma questo è per i fiori non è per i fiori non è per i fiori ma lui è per i fiori ok ok eccoci radiofragola 104.5 104.8 whatsapp cosa succede in città per coloro che ci vogliono scrivere sms whatsapp 3401916 542 ripeto 34019542 cosa succede in città succede in città che oggi Enrico K ci parlerà del carnevale in metal grande Enrico in metal questo titolo poi me l'ha suggerito anche il buon Giuliano quindi ci sta da cosa ho tirato fuori anch'io per il carnevale farò qualche piccola citazione parlerò un po' di poi che insomma anche il genere che ascolto normalmente ci stanno i travestimenti che non vanno fatti appunto solo in un'occasione cioè una volta all'anno ma bensì tutto l'anno quindi citerò alcune band interessanti che hanno dei travestimenti che poi portano con sé tutto l'anno sia nelle foto che nel una maniera che hanno per presentarsi al pubblico sempre comunque sia nei dischi sia nelle fotografie e spesso ci sono state anche band che non hanno neanche mai effettivamente rivelato la loro vera identità ci sono certe band che hanno mantenuto un anonimato molto a lungo e quindi ne citerò ne ho prese fuori sei di queste band che secondo me sono quelle più diciamo rappresentative dopo insomma il genere l'heavy metal il rock and roll permette mascheramenti tutto l'anno a differenza magari del carnevale che mi pareva anche un po' obsoleto quindi potevo per me era carnevale ogni giorno tra virgolette e quindi di conseguenza io comincerei con una band finlandese si chiamano l'ordi io li ho visti anche suonare dal vivo qualche tempo fa ah Giuliano vi dicevi sì no ultimamente hanno veduto un 40 milioni di dischi ovvio io sto parlando di brand che hanno usato un piano certo no ma loro sono molto famosi perché appunto sono usano sempre queste maschere quindi sono una versione horror dei cavaliere del medioevo quindi armature martelli elmi decorati spuntoni facce spaventose e quindi hanno questi travestimenti da mostro praticamente anche estremamente ingombranti e quindi la preparazione da quello che sono riuscito a tirare fuori ci stanno 5-6 ore solo a prepararsi loro poi suonano anche l'estate perché ho visto dei concerti addirittura anche all'aperto con 40 gradi vi hanno sempre questi mascheramenti estremamente anche ingombranti che non tolgono mai la prestazione della band quindi la band è molto rodata riesce ad esibirsi lo stesso nonostante questi travestimenti estremamente ingombranti e anche loro sono tra quelle band che hanno sempre mantenuto un certo anonimato tutto quello che la produzione cerca sempre di nascondere le facce che hanno veramente quindi hanno tenuto pertanto questa loro l'identità nascosta è un'altra band però vedi l'enorme è successo per esempio che adesso ha fatto l'aiuno con questo programma di Mili Carlucci io non so cosa sia solo sulle bollette riesco a visualizzare il canone e basta questo programma che ha fatto il giro del mondo è arrivato anche qui in Italia dove praticamente dei cantanti famosi ci sono travestiti con delle maschere chi da da angelo chi da c'erano vari personaggi insomma da Leone da Leone sì poi chi era il buon il buon Albano insomma c'erano tutti questi personaggi qua io andrei avanti restando un po' in tema grazie io sto parlando a lungo di questo perché so che a te piace sentire questi argomenti ti piace voglio parlare di queste cose questo mischiare quello che il tuo rock ero già intrappolato anche la tua settimana con il mio pop ecco uscire dal suo vortice quando hai citato Albano poi andiamo avanti io vi parlerei anche dei ghost che sono una band sempre scandinava e anche loro fanno delle heavy metal e sono vestiti anche tutti quanti loro hanno dei costumi particolari il frontman che si chiama Papa Emeritus e quindi è vestito ispirato agli abiti che usa il pontefice e quindi già lui è particolare il trucco del volto però naturalmente lo fanno sembrare un teschio e gli altri membri della band invece sono gli spiriti senza nome e praticamente loro sono leggermente più sobri ma sempre vestiti con degli abiti neri e simili a quelli che portano i vescovi eccolo per dire con delle maschere di ferro con le corna e anche questa mi dispiace dirlo a voi ragazzi presenti qua in trasmissione stiamo parlando di una band con un seguito stellare e quindi qua parliamo di triglioni parliamo di veramente tra visualizzazioni vendite e tournée fortunatissime in tutto il globo terraqueo ritengo che i ghost siano veramente una realtà nelle heavy metal moderno quindi non stiamo parlando di Albano quindi c'era anche Arisa tra i concorrenti che mi sembra una marca di qualcosa ma non mi dice niente bene allora andrò avanti adesso vi cito voi naturalmente conosciamo tutti anche di Slipknot questa band di Iowa Stati Uniti controcorrente rivoluzionaria anche loro tra vestimenti e anche loro comunque una forza fisica incredibile persone dal vivo perché sono sempre comunque mascherati quindi la difficoltà che puoi avere con queste maschere è importante quando sei on stage e loro usano delle maschere horror ispirate da Hannibal Lecter fino a ai killer di venerdì 13 e quindi e loro ogni disco hanno questa particolarità che a ogni disco hanno delle maschere leggermente differenti hanno un'evoluzione su ogni disco hanno la maschera viene leggermente modificata quindi ogni disco c'è qualche qualche novità e quindi loro sono comunque una realtà mascherata e anche loro hanno cercato per anni di mantenere l'anonimato ma dopo insomma è sempre una cosa un po' un po' difficile e dopo passerebbe insomma agli immortali Kiss insomma che vedo che ancora adesso c'è qualcuno che magari usa lo stesso trucco con gli stessi vestiti anche per il carnevale si usa poi tra l'altro loro erano tra i pivi che usavano questo famoso che dopo è diventato anche famosissimo face painting no? e quindi si truccavano posso vedere chi ho? Tiziano Ferro solo in privato posso parlare ma allora aggiungiamo un ultimo Attile Lauro cioè a questo punto mamma mia ragazzi siamo veramente oggi e boh io volevo chiudere con i Kiss che è naturalmente il band New Yorkese insomma da anni anni e anni sui palchi stanno facendo le ultime tournée quindi se avete occasione ragazzi ho adesso mai più anche loro sempre con questo look incredibile anche loro abiti sempre estremamente scomodi tacchi altissimi molto ribelli ai tempi adesso mantengono uno status fiorello cioè comunque stiamo andando sempre peggio è indimenticabile insomma James Simons leader della band con la sua linguaccia quindi da non trascurare mi pare che vi ho dato già buoni spunti di questo famoso carnevale tutto l'anno come ho detto io è bello questo lavoro che stai facendo sulle nostre molto bello io non mi ricordo nel programma di Millie Carlucci il travestimento di Orietta Berti non me lo ricordo c'è anche qualcuno che li sape da un cigno lei era vestita forse da cigno è vero forse da cigno da cigno insieme insieme unendo queste due correnti musicali importanti può nascere qualcos'altro secondo me fiorello fiorello e chiss tiziano ferro e di slip massimo ranieri è contaminato tutto il mio spazietto quindi io ritornerei perché volevo dire delle cosette importanti per il weekend adesso cerchiamo di essere seri in giusto due minuti e vi ricordo domani sera all'oft di Via Economo 12 ci saranno i TSO del mio amico Andrea Brescia che presenteranno il disco nuovo Earth che è in uscita in questi giorni su Edison Box è naturalmente disponibile in vinile cd digitale e c'è anche il download loro si ispirano un grunge post grunge comunque pesanti tempi disperi c'è una certa ricerca melodica secondo me hanno fatto un buonissimo ho avuto già occasione di ascoltarlo secondo me è un'ottima band poi estremamente preparata dal vivo poi sono sono veramente interessanti da vedere quindi domani sera c'è la presentazione a Trieste del disco dopo loro partiranno per una tournée europea che toccherà città come Berlino Vienna Lugiana e ho sentito che avranno un booking importante quindi il mio augurio è che riescano a raccogliere qualcosa di buono e quindi vi ricordo domani sera c'è la presentazione punto di TSO al loft di Via Economo quindi se avete l'occasione passate di là anche così per acquistare una copia sempre domani sera al bar All In che è a Villa Vicentina suoneranno gli LDB che sarebbe la dolce vita la dolce vita la dolce vita ecco e i Der Himmel Uber Berlin del mio amico Tino Vesper loro fanno un rock più elettronico molto sulla New Wave però sono secondo me una band buona da vedere dal vivo quindi c'è la stessa sera c'è un po' da scegliere dai loro sono a Villa Vicentina nel bar All In dopodiché un altro evento che vi segnalo per sabato sera in un altro bellissimo locale secondo me che è Rock Town in provincia di Pordenone suonano gli Undead che sono un gruppo punk rock che ha anche una sua storia io consiglio perché secondo me il locale è bellissimo tra l'altro è gratuito quindi sono gruppi americani inglesi sempre gratuito loro sono gli Undead un gruppo che si è formato nel 2007 fanno punk rock hanno fatto di spalla band come Misfits Demd Gol Bordello Drop Trip Murphy insomma hanno un buon background quindi a limite appunto c'è anche ingresso gratuito perché non andare a dare un occhio che secondo me ci può stare dopodiché ho ancora una notizietta veloce se possibile un minuto due minuti per segnalarvi che poi voglio parlarvi anche adesso ascolteremo un pezzo di voi tra l'altro che sono più che canto ma che fa parte del cd di The Italian Stallion che è uscito sulla mia etichetta discografica Planet K Records adesso andremo a fare una ristampa a breve abbiamo finito le copertine ci sarà qualche novità grafica rispetto alla staffa americana a breve appunto sarà disponibile vorremmo fare anche una presentazione anche noi qua a Trieste per presentare il prodotto qua in zona e quindi vi terrò aggiornati su quelle che sono le novità che ci saranno a breve volevo strappare due parole su questo pezzo che andremo ad ascoltare che comunque fa parte di questo The Italian Stallion che è il progetto del mio amico Manuel Galati con tantissima Rita Pavone con tantissima collaborazione sono un sacco di ospiti all'interno di questo cd il genere anche qua spazio dal punk rock lo spaghetti metal come dice il mio amico Count dice un po' di tutto sono tanti ospiti dentro questo pezzo appunto che andremo ad ascoltare adesso dentro c'è la solo che ha fatto il mio amico Mark Saigonel chitarrista di Titus e più alla chitarra c'è a quell'altra chitarra c'è il chitarrista degli Sloveni Blackout e quindi chiudere qua Giuliano se non avete altre domande interessanti io volentieri abbiamo fatto parlare nel momento in cui a parte un'incursione un'incursione importante comunque aspetta scusami che c'è si sta agitando perché vuole fare una domanda aspetta spaghettimetal cioè spaghettimetal è visto come spaghettimetal sarebbe l'impronta molto italiana perché ci dì The Italian Stallion è praticamente mafia pizza spaghetti rock'n'roll e allora è quello che diciamo il lato così export che tanto piace agli americani quindi abbiamo fatto un mix di ha fatto ma io ho tanto collaborato a questo progetto quindi lo sento anche un po' mio bene allora il tuo nome d'arte quando canti Bobbi solo solo Bobbi ti lovo ok no è vero perché dopo anche dei credits però vedete dopo qualcosa anche in porto sto facendo delle cosette anche mie 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 e il nome d'arte ma che è vero è I.K. Craval ok ciao ragazzi e ringraziamo Enrico Camp per questa meravigliosa d'ora in poi guarda veramente le tue rubriche le racconteremo con questi interventi meravigliosi che ti ripeto secondo me ci stanno benissimo dentro quello che ci racconti la prossima volta ci sarà Claudio Villa voglia 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 quello che devo andare a contare volevo ringraziare tutti quanti Elisa grazie per la puntata di oggi noi ci rivediamo ci riascoltiamo la prossima settimana dimmelo invece di fare gesti dimmelo Elisa vi presenti il pezzo? come no sì volentieri ok perfetto volevo solamente salutare tutti quanti Giuliana Crescina sì risalutiamo Cristina ciao Cristina ciao Cristina e la vogliamo prestissimo qui con noi ciao Andrea grazie a tutti noi ci rivediamo e ci risentiamo la prossima settimana sto prendendo tempo perché Elisa e Enrico si stanno decidendo su come lanciare il brano vai allora The Italian Stelio Walk Alone ciao a tutti ciao che figo bravo a tutti molto bene vi portate la pistola la settimana prossima sono contento vi vedremo poi in altri prossimi grazie a tutti grazie a tutti